Nella mattinata odierna a Cava dei Tirreni la sezione operativa della DIA di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno nei confronti di Antonio Di Marino, già destinatario del provvedimento di custodia cautelare eseguito il 13 settembre scorso nei confronti di 14 indagati, ritenuti responsabili dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura commessi con l'aggravante del metodo mafioso. Nello specifico è stata sottoposta a sequestro la società La Boutique del Pane SRL con sede legale e operativa a Cava dei Tirreni, avente per oggetto sociale la produzione di pane e prodotti da forno per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Il provvedimento di sequestro è il risultato di articolate e analitiche attività di indagine patrimoniali condotte dalla DIA che hanno consentito di far emergere una significativa sproporzione patrimoniale in capo al destinatario del sequestro rispetto alle patrimonialità esigue determinate dall'attività lavorativa condotta dallo stesso.